Buonasera amiche e amici, benvenuti sul canale. Quest'oggi riprendiamo con un tema sociale, che è un tema molto importante e parleremo dell'invidia. Torniamo su una tematica di una certa impostanza e parleremo di questo sentimento umano fra i più difficili da trattare perché oscilla fra la normalità e la devianza psicologica. Quindi parliamo dell'invidia. Lo spunto mi è stato fornito dalla recente polemica, come sapete, nella quale qualcuno si è preso la briga di contattare tanta gente nei vari canali per discreditare la figura della dottoressa Renata Lenucci insinuando che non fosse un medico quando è di tutta evidenza che la sua quarantennale casiera in ospedale lo dimostra. Il fatto di per sé è di poca importanza. È un fatto di poca importanza. Un fatto che certo capisco pure possa urtare la sensibilità di una persona non abituata a ricevere cattiverie gratuite, ma è soltanto sintomatico di una patologia deviante che nasce appunto da questo sentimento chiamato invidia. Dicevo prima che è un sentimento che però oscilla fra la normalità e la deviazione psicologica. Perché? Perché io dico è un sentimento duale, lo definisco duale, ovvero un qualcosa che nei limiti può essere anche positivo per la persona nel momento in cui significhi diciamo il desiderio di voler ottenere diciamo dei traguardi, degli obiettivi che hanno raggiunto gli altri e questo diciamo può rappresentare uno stimolo uno stimolo a migliorare. È per certi versi uno stimolo che ci ricorda che alla nostra vita manca un qualcosa. Tuttavia in alcuni soggetti in un desiderio non di migliorare c'è un desiderio di danneggiare l'altro. Cioè un desiderio non di elevarci noi ma di abbassare gli altri che ci appaiono più brillanti, più fortunati. In questi casi l'invidia diventa come un tattolo quotidiano quindi diventa un rilevante aspetto psicologico che richiede l'intervento di uno psicoterapeuta che aiuti ad eliminare quella rabbia quella frustrazione che sono alla base di questa tipologia di invidia. L'anima, diceva Jung Jung diceva fai il possibile l'anima per portarci là dove le nostre caratteristiche innate ci porterebbero e quando cerchiamo di deviare andiamo incontro a una reazione. Si pensa appunto che proprio il non aver assecondato le nostre tendenze e caratteristiche porti la psiche a ribellarsi e invidiare coloro che sono invece riusciti assecondando le loro caratteristiche. una deriva che può portare a sviluppare anche rabbia rancore che in effetti più che verso gli altri alla fine si rivolgono verso noi stessi per non aver saputo sviluppare quelle che erano le nostre caratteristiche. Io mi vorrei rivolgere soprattutto ai giovani e ai giovani io dico per non invidiare c'è una sola strada scegliere di voler diventare niente altro di quello che si è il proprio seme come dicevano i taoisti ammettere e perdonare i nostri difetti che poi non sono nemmeno difetti sono caratteristiche e soddisfare quelle che sono i nostri desideri. L'invidia ci racconta dunque le nostre mancanze ci racconta le nostre assenze occorre guardarsi dentro e dare voce alle nostre vere esigenze ognuno vedete ha le sue specificità per cui non c'è ragione di invidiare qualcuno che ha altre caratteristiche perché vedete bisogna partire da questo qualcuno può essere portato a essere un atleta un altro un medico un altro un cuoco un altro un navigante questo è ascoltiamoci quindi e allontaniamo questa invidia intesa come volere il male degli altri la denigrazione degli altri vedete questo sentimento è alla base anche delle peggiori guerre perché è un sentimento distruttivo prima per noi e poi per gli altri se qualcosa non l'abbiamo ottenuto dobbiamo capire che forse non era proprio nelle nostre caratteristiche il desiderio frustrato posto gli invidiosi a provare rancore nei confronti degli altri e a giustificare se stessi con il fatalismo cioè io perché sono sfortunato perché quell'altro è fortunata quell'altro non meritava meritavo io alla fine alla fine cari amiche mie è una questione tutto anche di autostima se ti stimi e ti vuoi bene non hai invidia no se hai invece una bassa autostima hai anche paura a metterti in gioco e quindi proprio invidio per chi lo fa la caratteristica principale di persone affette da questa patologia è sostanzialmente il pettegolezzo per insinuare dei dubbi negli altri si ha bisogno quindi dell'approvazione di tutti questi altri che ascoltano e per fare ciò ci si presenta anche come la persona giusta sincera che dice le cose ma le dice nel nostro interesse è sicuramente una emozione triste che nasce da insoddisfazione che danneggia chi la prova perché si diventa vittimisti rabbiosi soprattutto rabbiosi dei punti di contatto ci sono anche con la gelosia che però diciamo la gelosia ha più caratteristiche di di possesso di esclusività del rapporto con gli altri sia che sia di tipo amoroso che di tipo amicale va da sé che in questo caso un allontanamento viene vissuto come un tradimento per cui quando si vede l'altra persona che poi sta bene ebbè la gelosia va a fondersi con il sentimento dell'invidia per una condizione di sofferenza di cui si attribuisce la responsabilità al soggetto terzo per cui si arriva a dire qualsiasi falsità al fine di provocare danni all'altra persona purtroppo è un sentimento che notano gli altri gli altri lo notano ma che quasi mai quasi mai si ammette nessuno lo ammette perché nel nostro contesto culturale vi è una una bassa accettazione sociale del fenomeno tanto da farne sempre riferimento agli altri quello è quello è ma mai verso se stesso e comunque è un'emozione comunque antica lo stesso Aristotele nella sua retorica scriveva l'invidia è un dolore causato da una buona fortuna che appare presso persone simili a noi una passione disonesta propria delle persone disoneste ecco perché l'invidia alla fine viene sempre negata nessuno si definisce tale beh l'invidia buona invece è solo quello che ci stimola a migliorarci è una questione di positività verso l'altro perché l'altro viene visto con un senso di ammirazione non come un nemico e l'ammirazione verso di lei o verso di lui ci porta al miglioramento questa è l'unica forma diciamo di invidia se vogliamo che può essere intesa come buona nella forma negativa si va verso il delirio verso l'invidia patologica caratterizzata dal rancore dall'astio si caratterizza per queste relazioni nascoste defilate anonime nickname farsi che tendono a denigrare senza però manifestarsi come appunto nel caso che hanno fatto alla dottoressa le noci che ha ricevuto delle denigrazioni anonime nascoste chiaro segno ovviamente di un disturbo di personalità credo quindi per concludere invito tutti ma specialmente i giovani ad ascoltare se stessi ad ascoltare le proprie caratteristiche noi dentro abbiamo un seme che sviluppa la nostra pianta che è unica non dobbiamo somigliare è unica ascoltiamo come dire l'istinto per realizzare questa nostra pianta e ciò vale comunque a qualsiasi età non guardiamo gli altri per voler ottenere quello che hanno loro perché loro magari non hanno quello che abbiamo noi ognuno è perfetto così come è quindi quindi non cadiamo nel vortice dell'invidia che è un sentimento che può condannare alla propria infelicità perché porta non ad un elevarsi verso la felicità ma volete che gli altri vengano giù verso la nostra infelicità questa è la sintesi per cui spero di essere stato utile in questo breve commento su questo tema che è molto più diffuso di quanto di quanto si pensi spero di essere stato utile vi abbraccio con affetto e alla prossima